Aumentano nel 2023 le compravendite di immobili energeticamente più efficienti e crescono anche gli acquisti per uso investimento. A dirlo il report dell'osservatorio immobiliare nazionale FIAIP elaborato con la collaborazione di Enedicom la cui presentazione si è tenuta a Milano nella sala delle colonne della BPM. L'evento moderato dal giornalista economico Vincenzo Campo è stato anche tappa finale del nuovo progetto FIAIP Monitor Italia che ha portato per due settimane le analisi della federazione italiana agenti immobiliari professionali tra le province di tutta Italia. Il progetto FIAIP Monitor Italia consiste nel concentrare nello stesso periodo in tutta Italia quindi in tutte le province italiane e a seguire in tutte le regioni l'osservatorio immobiliare cioè i dati di mercato che sono raccolti e validati dagli agenti immobiliari professionali che sono gli unici veri conoscitori del mercato in maniera temporalmente puntuale. Si divide in due parti questo progetto in due momenti uno fine febbraio primi di marzo infatti chiudiamo oggi qui a Milano dove presentiamo l'andamento del mercato reale del 2023 e le previsioni dei primi sei mesi del 2024. Poi avremo un secondo momento a fine settembre primi di ottobre dove presenteremo i dati invece dei primi sei mesi del 2024 e le previsioni di fine anno. L'investimento immobiliare continua ad essere il preferito dagli italiani a tutela dei propri risparmi contro l'erosione dell'inflazione a confermare i dati dell'osservatorio nazionale che ha analizzato un 2023 non semplice anche per gli aumenti dei tassi di interesse della BCE. Dopo il saluto di benvenuto alla FIAIP nel suo intervento il responsabile commerciale di Banco BPM Matteo Faisola ha sottolineato in proposito come sia prevedibile un inizio di riscesa dei tassi nei prossimi mesi ma anche l'importanza di proporre prodotti finanziari sempre più mirati. Tra questi oltre ai mutui under 36 i mutui green per immobili in alta classe energetica hanno contribuito a tenere bassi gli spread indirizzando il mercato verso scelte più virtuose e meno energivore. Anche in questa chiave i dati FIAIP hanno fotografato un andamento dinamico in particolare sulle seconde case e l'importante evoluzione in atto. C'è una contrazione del numero di compravendita che si sono ridotte di un circa 10% 10-11% quindi ci attesteremo a chiudere il 2023 con un numero di compravendita leggermente inferiore ai 700.000 unità. Questo però non si contrappone ai valori perché i valori sono aumentati di una piccola percentuale quindi abbiamo una stabilità se non un leggero rialzo dei valori di compravendita degli immobili. Dal focus sull'efficienza energetica è emersa la diminuzione delle compravendite di immobili in classe G soprattutto per billocali e villetta schiera e un interessante spostamento delle preferenze verso la classe D. Alcuni segnali diciamo ci sono di una risposta del mercato. Questo lo vediamo ad esempio nella percentuale di immobili ristrutturati e compravenduti nelle classi energetiche più performanti. una percentuale che raggiunge quasi il 40% dieci anni fa, questa percentuale era meno della metà. Questo è molto importante perché sappiamo che in Italia il grande tema non è tanto il nuovo costruito perché si costruisce poco e perché il nuovo comunque deve rispettare standard energetici molto elevati ma è sullo stock. Il 62% degli agenti intervistati individua nell'attestato di prestazione energetica un fattore sempre più importante nell'orientare le scelte dei clienti a testimonianza di una lenta ma costante crescita della sensibilità ambientale. Siap, il nostro sistema informativo, sta raccogliendo tra il 2015 e il 2023 circa 5.400.000 attestati. Se le classi energetiche peggiori, che sono quelle corrispondenti alla FG, nel 2021 erano intorno al 58%, nel 2022 abbiamo riscontrato un miglioramento di circa il 3%. E questo a favore delle classi energetiche migliori, quindi quelle classificabili tra la classe B e la classe A4, che sono aumentate di circa il 3,7%. I dati dell'osservatorio FIAP della provincia di Milano hanno avvalorato un'attrattività sempre molto forte, in particolare nel segmento degli immobili di grande pregio. Nel capoluogo Lombardo il prezzo medio per compravendita di 5.000 euro a metro quadro si conferma il più alto d'Italia, ai vertici, anche i cani nelle locazioni residenziali. Milano è considerata una delle capitali europee nel mondo immobiliare, Milano è attrattiva, Milano negli ultimi 15 anni ha fatto una crescita notevole, è diventata attrattiva per investitori, è diventata attrattiva per mille motivi che partono dallo studio al lavoro al turismo. Di conseguenza l'evoluzione che abbiamo avuto nella crescita, nella rigenerazione di Milano, in tutta quella che è stata la distribuzione, la creazione di nuovi centri, nuove aree di riferimento su Milano, Milano c'è decentralizzata, è quello che ha portato a un valore anche del mercato immobiliare. Il mercato rispetto all'anno scorso non si può dire che sia in contrazione, sono semplicemente diminuite un pochino le transazioni, il numero di compravendite, ma in realtà questo è dovuto al fatto che c'è stato un ulteriore aumento dei prezzi e quindi Milano nonostante tutto non solo tiene ma ancora in aumento e quindi la differenza tra domanda e offerta si fa sentire. I tempi sono un filino più lunghi e anche l'aumento dei tassi dei mutui hanno comportato che comunque ci sia un mercato un pochino più riflessivo. A Milano si è tornati a parlare delle necessarie modifiche alla direttiva europea sulle case Green. Nel suo intervento il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ha sottolineato l'importanza dello slittamento delle scadenze al 2050, una data che mette a riparo l'Italia da uno stravolgimento non attuabile. Non ci si deve sedere sugli allori però se si vuole completare la transizione energetica. Una partita chiave anche per la FIAIP così come quella dell'emergenza abitativa, sfide sulle quali la federazione torna a chiedere al legislatore di compiere dei passi non più differibili. Bisogna aumentare l'offerta di abitazioni sia da vendere che da affittare sul mercato e tenendo conto anche dell'andamento demografico che è in grande mutamento da qui ai prossimi anni e bisogna accelerare il piano nazionale sulla casa che è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Bisogna accelerarlo soprattutto facendo sì che vengano attuate delle vere linee guida per tutti i comuni affinché tutte le amministrazioni comunali prevedono nelle loro pianificazioni urbanistiche da una parte un piano strutturato di edilizze residenziali sia pubblica che sociale e dall'altra dei criteri incentivanti per iniziativa privata sia di natura fiscale che tecnica. In questo modo si va a aumentare l'offerta di abitazione, calmierare i valori e si dà maggiore attrattività al sistema paese.